carissimi amici di teatro san giovanni venerdì primo marzo alle ore 21 quattro teatri tre attori e un'attrice alberto rizzi andrea de manicor gianni franceschini e valeria raimondi quattro attori di san giovanni lupatoto che si mettono in mostra presentano la loro arte qui proprio nel loro paese d'origine vi aspetto numerosi venerdì primo marzo alle ore 21 per conoscere questi artisti lupatotini attore a san giovanni vi aspetto